Ciao ragazzi, faccio un video veloce, sono all'esterno come potete vedere, tra un po' tra l'altro mi sa che scatta un temporalone un video veloce che ci tenevo a fare prima di andare a vedere le partite, tornare a casa e vedere le partite per la lotta a salvezza ci tenevo, sapete quanto a cuore è il settore giovanile, la Juventus vince il McDonald's Tournament a Parigi un torneo molto prestigioso, molto importante con Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Chelsea e selezione McDonald's oltre ovviamente alla Juventus, ci è andata con tre squadre, l'Under-12, l'Under-13 e l'Under-14 l'Under-12 ha vinto il torneo, quindi vince con l'Under-12 ma in particolare vanno anche all'Under-13 e all'Under-14 che hanno comunque ottenuto un secondo e un terzo posto, quindi assolutamente un torneo prestigioso per gli Under, per la Youth e da segnalare che la finale poi dell'Under-12, quella che ha consegnato il trofeo alla compagine bianconera è finita a 4-2 calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, il gol dei tempi regolamentari l'ha segnato il figlio di Pepe e insomma, molto molto bella questa cosa, comunque Juve poi ha vinto 4-2 rigori, fortunatamente i rigori ogni tanto vinciamo non perdiamo e basta, e dunque la Juventus vince questo trofeo internazionale molto prestigioso per quanto riguarda il settore giovanile e insomma, quindi un buon momento con la qualificazione della primavera alla fase finale, ai playoff che sembrava una cosa impossibile fino a tre settimane fa con la Juventus Women primavera che si giocheranno la fase nazionale anche loro l'Under-15 che è vero ha perso 3-1 oggi a Milano ma ha tutte le carte in regola per poter ribaltare il risultato con l'Under-16 che comunque si è piazzata bene a Ginevra